C'era in me questa voglia di scoprire attraverso il viaggio Il primo viaggio per la musica è stato andare a Monti, che è il paese vicino a Berchida, 15 km, non ero mai uscito da Berchida La mia idea di fare musica non è altro che la naturale prosecuzione di un viaggio quotidiano che è quello della musica che faccio dal primo di gennaio al 31 dicembre di ogni anno Grazie